Andiamo dal bifido By night Astrid, beh, lei insomma è una VJ, VJ, VJ si dice è un'intratrenitrice di locali, però lei è anche stata personal trainer tutt'ora lo sai, giusto? Tutt'ora, certo, sì, sì Quindi? Bodybuilding? No, bodybuilding no, quella è mia sorella mi occupo di pilates, quindi tutta la parte come ponzio No, io ho cominciato a fare sport perché da piccolo mangiavo tanti spaghetti allo scoglio quindi aveva la scogliosi e allora ho cominciato a fare un po' di sport anche a me, perché sono sempre stato un po' pigro cioè mi pensa che da piccolo Gigi sognavo di fare pilota automatico tanto ero pigro Bilby, il bifido è fidanzato, è sposato alla ragazza Diciamo, come si dice su Facebook, è una storia complicata ha questo senso No, la scabbia memorosa è un po' più alta di me non che voglia tanto era Gigi essere più alto di me ti hai mai visto come sono insomma, noi altri piccolini che abbiamo i nostri problemi anche me quando piove sono uno degli ultimi a saperlo anche me quando cambia il vento con la testa che spussa da piedi a voi mi vuoi in pizzeria mi domanda vuole il seggiolone ti hai visto come fai i selfie vengono fuori fin qua mi il capotto lungo non posso mi sono mai comprare un loading mi parlo in senoce anche me quando Gigi quando vuoi cantarmi suocera l'habita al sesto piano mi non arrivo mi al sei mi schifo due volte e tre per andare su però insomma spero insomma che sia quella giusta siamo in una relazione diciamo complicata però pian pianino insomma sto imbastendale una cioè diciamo una di vecchio stampo una che crede nei valori ho messo sei mesi hai detto capisci sei mesi prima di imbastire qualcosa dopo sei mesi mi sono un po' stufato stasera la invito a cena ho detto stasera la sconvolgo goverto la porta mi sono presentato vestito solo di due gocce di acqua velva numero 5 Gigi nudo nudo come un po' lame la verso la porta mi fa oh ma sito ha che messo una l'antica beh ho detto invece andiamo in camera da me nonna non c'è problemi non c'è problema 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 quella di adesso è complicata le vecchie relazioni ma che non che non ho avuto una Gigi questa quale era veramente gelosa non la mi soffocava una che ti occupa lo spazio non so come la chiamavo Galbani fiducia zero ma veramente la mi guardava il telefono il portafoglio tu capisci una volta arrivo a casa da calcetto vedo come metto dentro il piede alla porta tu la metti a un telefono e ho detto oh ma sei scema frollati mettiti in bolla cosa c'è cosa c'è la mi fa cos'è sta roba qua la metti a un telefono e cos'è l'ho trovata nelle tue braghe finché facevo la lavatrice guardo il biglietto che è scritto Susi ma che storia in effetto sai che mi sono uno che scommette i cavai Susi è un nome di un cavai cioè ma io pensavo come capì che pensavi che fosse chissà che ma prima di muovere le mani discorriamo no parliamone mettiamoci lì no ma io punto fine poi cavai Susi è un nome di un cavai punto fine pace bacini due giorni a passare Gigi due giorni dopo due giorni rientro in casa metto il piede dentro la porta tu un'altra ciaffa ma sento sai toccata sto giro se ho cantata mi fa a che te telefonai il cavai stamattina Gigi mi sono fatto furbo era adesso cioè adesso sul cellulare registro i nomi con i nomi da maschio cioè ho Barbaro Yasmino Chantallo non si rischia adesso mi ascemo è bello primo piano complimenti quasi quasi magari a fare i compiti con soffioi veramente complimenti no ma spiegaci la sua storia sono curioso lei pensa era in vacanza no è partito tutto da una vacanza a Rosolina più o meno sì ero in vacanza in Grecia ho messo tutte le parole in greco dai sentiamo Calimera buongiorno Calispera buonasera Calinicta buonanotte Calinverna gofredo Califugo gobaldepie Calibraghe mi piace grazie allora me le ricorderò per la prossima vacanza per il misnondo ci candidiamo fra poco da qualche anno io a no stiamo scantando a Bacca Gigi la partecipa a mister pressione alta oppure il concorso colesterolo d'oro esatto trigliceridi in fuga